Ancora la nostra azione, rete, 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 se non sbaglio ha segnato Damario, 3 a 0 il risultato fino adesso, un gran tiro all'ingrocio dei pali ad opera di, se non erro, Damario, 3 a 0, ci troviamo nel secondo tempo. L'arbitro si accinge a far riprendere il gioco, tra pochi minuti abbandono il campo in quanto mi devo portare a Cepagatti dove giocheranno i nostri giovanissimi contro FC Chieti 1922, giocheranno allo stadio Marcantonio di Cepagatti. Per il campionato giovanissimi, seconda giornata, domani mattina qua al Nuovo c'è la gara dei allievi di mister Gabriele Di Felice contro la Val di Sancro alle ore 10.30.